Non vi mettete il field d'avance. Ora ti sta. Non sto troppo vicino. Attentive che c'è l'attività. Su, chi? Buon valentino. Dai. Grazie. Buon saluto di adesso. Bravo! Chi? Chi? Eh, richiamo. Chi? 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 No! No! C'era un po' di curve. Non lo fai, si vedevo, si vedevo. Non lo fai, si devono ammazzarli, che credevi, in fondo. Cambia una volta. Ma non lo rischiano che si ammazzano? Non si vedevo. Non ci fanno un canzone. Tutti buono aspettate. Ci sono notabili. Questo ha tirato parato di tecnico. E poi appena vizzi mi danno il controllo. Quindi stanno due di queste caglie, le devi dare quando c'è stato. Siiii! Caglie! Si, vieni tutti. Li trattano come un segno. Muovilo, muovilo. Devi stare al centro, devi lavorare al centro. Appena entra sulla distanza devi portare le pelle. Ok? Muovilo. Questo tira un fraccia a dritto proprio. No! Devi lavorare al centro. Ti stai lavorando troppo qua. Ma è giù, da no? Lascia, lascia, lascia. Sui, ci! Oh! Questa è ronda. Sti braccioli. No! Eh! Non c'è, non c'è. Non c'è una grande risposta. Non c'è una grande risposta. La mia città è una grande risposta. Ma non c'è. Se gli hanno dato... Eh! E gli devo voler sì a fitta. A fitta lo muovi perché il rato lui si sta appretando. La mia città è un di più del retastico. Non fanno due giorni. Non fanno due giorni. Non fanno due giorni. Ma calma. Attenzione, lavora bene, fermati prima con il giro, su, cì, vai per me, ammazzo, ma che deve fare il pizzo? Chi viene troppo avanti lo deve anticipare. S там, c'è il mрасk erano... Accusalo, però è controllato! Accusalo! Mi ha tirato una mascherina... Sì! bravo raga adesso viene aspettalo che viene faclio queste gambe accusalo ha sentito ma che controllo 10 secondi non accettare questa rissa non ho messo i corzioni immediato mi posso vedere bravo bravo attention please category 16, 17 years old Maine, Azerbaijan and England please go to category number 1 category 16, 17 years old maine, Azerbaijan and England please go to tatami number 1 Azerbaijan and England tatami number 1 fantasticอ più veloce, non potrebbe essere Nicolato una volta già dal braccio una volta già dal braccio Nicolato vai vai grazie guarda come sta 13 anni 13 anni grazie 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 Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.